Salve a tutti cari amici ed eccoci su Death Stranding, dunque dobbiamo cercare in modo di riemergere perché siamo morti nell'altro episodio di trama, ecco qui. Dunque siamo tornati dove abbiamo fatto la boss fight, quindi soccorri a Mary, trovo un modo per inseguire X. Merda, X l'ha portata alla spiaggia, non devono sfuggirci, ci deve pure essere un modo per raggiungerti, ma in fretta se lo sai cosa c'è in ballo, se non fermi X userà Amity per scatenare l'avvocatrice e tutto ciò che abbiamo fatto non sarà servito a non piacere. Quindi, trovo un modo per inseguire X ragazzi, salta verso la spiaggia con aiuto di Fragile, ok, finiamo di raccogliere i nostri cristalli e torniamo, ci hanno dato un indizio di saltare per la spiaggia grazie all'aiuto di Fragile, quindi. e vediamo come avanzerà la trama. Ragazzi, vedete, è Knott City abitanti zero, quindi non c'è nessuno a Knott City, è una città fantasma. Quindi, entriamo nella stanza privata ragazzi. Abbiamo anche il BB che è stato colpito, lui, dal colpo di fucile, ma sembra che l'abbiamo protetto col nostro corpo alla fine. Ok, trasfusione medica avvenuta. Quindi in teoria è questo che dobbiamo fare per partire. Lo laviamo magari il nostro Sam prima perché è bello il concetto da buttare via, eh. Ok, così. Meno andiamo a fare la battaglia finale, se è la battaglia finale con lo sporco addosso. È tutto. Ci permettiamo di perdere qualche attimo in più, ma è teoricamente per una giusta caso. Non so quanto manchi al finale, eh. Sono sincero. Quindi. Ok, adesso senza perdere tempo, ragazzi, ha il nostro BB al proiettile addosso, però va bene, non è morto, quindi salto di fragile. Dai. Higgs vuole collegare i nodi della tua rete con la spiaggia di Amelie. Ora è chiaro dove si sono diretti. E come ci arriviamo? Io non posso, ma tra te e Amelie c'è una forte connessione. Sei stato tante volte alla sua spiaggia, vero? Puoi fare tu un salto. Allora lo farai per me? Cercherò di prenderlo vivo. Promettilo. Devo essere io a fin di Higgs. Bene. Allora ti aiuterò ad arrivare la giusta. Io non posso inviare due persone. Ma verrò subito dopo di te. Hai detto tu che non puoi andare da lei. Infatti. Ma posso venire da te. Grazie alla forza dei legami che ci odisce. La chiappa sogna ti condurrà da lei. E poi? Sì. Il misangha mi condurrà da te. Tutto qui quello che porti? Sì, non mi servono Ormi. Sì. E non voglio portare neanche. Sì. Sì. Hai qualcosa da mangiare? Oh. Ti ho contagiato eh. Se le cose si mettono male, occupati di lui, ok? Se vuoi che funzioni, devo per forza toccarti. Chiudi gli occhi. Ora immagina Amelie e la sua spiaggia. Le vuoi bene, vero? Tu le vuoi bene. Ora ci siamo. Ok ragazzi, Amelie ci ha fatto fare il salto per la spiag... Scusate, Fragile ci ha fatto fare il salto per la spiaggia di Amelie. E si va a prendere X. E vediamo se poi sarà anche il finale della nostra storia. Non credo, perché abbiamo ancora da scoprire cosa sa da Yardman, però... Ah... Amelie? Sanna... Che ci fai qui? Pronto a farla finita. Prima della fine di tutto quanto. Che cosa ne vuoi fare? Che cosa ne vuoi fare? Lo sappiamo cosa ci aspetta. Perché mai rimandare l'inevitabile? Noi che abbiamo le Dooms, lei, siamo tutti legati qui per una ragione. Perché tutti abbiamo un ruolo nel Death Stranding. E' questo brusto, questo cazzo di spiaggia. Non c'è riemersione qui, no? Uno di noi muore fine e se ne va all'alte e là. Non vale, no? Il fortunato che perde pone fine a questa infinita attura di palle una volta per tutte. Perciò, niente CIA, niente voraggio, niente puttanate. Solo un bel combattimento vecchio stile. Bastone contro corda, fucile contro filo. Un'altra fine prima della fine. Un'ultimo game over. Ok. Io sono la particella. Coraggio! Allora, c'era un carico qua. Sono ancora pieno di munizioni. Sempre che colpirlo così, ragazzi, sia la cosa giusta da fare. Ok. Ok, forse il filo dobbiamo usare. Corri Sen, corri. Dai Sen! Non mi serve quest'arma, Sen. Posso vincere. Posso vincere! Questa scena, ragazzi, è presa da commando, eh? Quando tira fuori il coltello Bennett e attacca Schwarzenegger, il colonnello John Martix. Eccolo. Dai Sam, picchia forte! Eccolo. Eccolo. Forza! Dov'è finito? Eccolo. Eccolo. Ragazzi, ne ha di punti ferita, sembra. L'ho sentito arrivare, vibra il pet quando arriva. Ok, preso. Mi viene a pensare che non fosse la tecnica giusta, eh? No. 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 Si arriva. Non puoi fermare questa cosa Nessuno Noi abbiamo le dooms, Sam C'è solo un modo in cui questa cosa può finire Andi avanti Ah Bella questa parte Mi hai beccato Oh 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 Ancora dai Sam Mantieni equilibrio Colpisci Sam Testata Ti fa star male Il contatto fisico eh mister Sindrome aptofobica Eh congratulazioni Hai vinto la partita Peccato che tu non abbia fermato un cazzo So facciamola finita dai Fragile Vedo che ti sono rimasta impressa Sono fragile Ma non sono così fragile Stavolta sarai tu ad andare in pezzi Dici davvero Quello che ci lega è molto più forte Di quanto tu credi Dammi il potere Che cazzo Che ti succede Sei già a pezzi Vaffancula Io sono Higgs Sono la particella di Dio Che permea l'intera esistenza E chi sei tu Tesoro Non sei altro che merce avariata Tu sei merce avariata Ecco qua ragazzi Abbiamo finito l'episodio Credo di Higgs La particella di Dio Ecco il nostro trofeo Ecco come avevo promesso Grazie Perché ci hai messo tanto? Ti ho portato una metafora Prendila tu Racconta a quei fissati con le consegne E come ci si sente A portare una maschera No Tienila tu Sarà meglio che lo racconti tu stessa Un'ultima cosa Il tuo baby Sono riuscita a portarlo Facendolo passare come attrezzatura Ti dispiace? Odio fare la babysitter Dove vuoi che ti spedisca? A Est? Non gli serve il tuo aiuto Lui ha la rete chirale E ha anche me Torneremo a Est insieme Beato lui Ti ringraziamo per tutto ciò che hai fatto Davvero Ma siamo a posto E poi avranno bisogno di te Alla Fragile Express Già Chi meglio di me sa raccogliere i pezzi E rimetterli insieme Non si può pretendere niente di meno Della perfezione Fragile Siamo pari Niente debiti Non c'è altro da dire Addio Sam Avanti Andiamo c'è ancora molto da fare Tu credi ancora in me? Anche senza X sono una bomba a orologeria Posso far finire tutto in un lampo Ma quello che voglio Quello che ho sempre voluto È far parte di tutto questo Essere tutti uniti Che c'è? Dimmi la verità Tutto questo lo fai per te o per Bridget? Per il nostro paese Il nostro futuro è la verità C'è una cosa che ti devo dire Sam Quando ti trovavi a Est Sono fuggita e sono venuta a trovarti Ah sì? Hai mentito? Porca puttana Hai idea di quanto mi sia costato venire qui? Tu non saresti mai venuto altrimenti A te non importava niente Dell'America o della Bridges Ma noi sapevamo a cosa tu tenevi davvero Qualcosa per cui avresti attraversato il continente Una ragione per costruire l'Euca Dai Hartman ha avuto l'idea Bravo Così io sono Mario e tu la principessa Peach Hai ragione Non me ne fregava un cazzo di questo paese Non ho legami con niente e nessuno A parte te Mi dispiace Sam Ma alla fine è andato tutto bene Almeno un problema è risolto Lo so che hai altre domande Ma puoi riservarle Per dopo Certo Torniamo a casa Come facciamo? Noi saltiamo come fra Joy? No La spiaggia arriva fino a casa Corriamo Insieme Corriamo Sì Come Mario e la principessa Peach Aspetta qui D'accordo 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 Facciamola finita Facciamola finita Non c'è espiazione Non per noi Non per noi D'accordo finita D'accordo finita No D'accordo finita 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 Mi dispiace Mi dispiace tanto. Ridammi il mio bibi. Lo cerchi nel posto sbagliato. 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 Lo cerchi nel posto sbagliato.